Io ci ho pensato su e mi chiedevo se volevi passare tutta la tua vita con me. No, è molto bella ma non ti piace, piccole contraddizioni. Mi piace anche la Gioconda ma non per questo significa che me la voglio scappare. C'è qualcosa in lui che non mi convince. Cioè? Come guardo le donne, è un buon segno se guarda le donne. Perché dovrebbe? Ho un incontro con un'importante agenzia di spettacolo tra qualche giorno. Ecco cosa succede quando si è alla terza media. Posso parlare con sua madre? Guardi, attualmente è morta. Ma la sua assistente? Cos'ha la mia assistente? Chissà che bei lavoretti che fa quella. È mia moglie. No, è morto. No, è morto. Io ti odio Perché? Io ti odio